Come viaggio anticipato Riccardo per il focus di oggi sono venuta a Cesena ad Agrofer, il Salone delle Agroenergie, risparmio energetico e bioedilizia, che quest'anno giunge alla sesta edizione. Tre giorni dedicati alle fonti da energie rinnovabili. Noi non potremo seguire tutti i convegni e gli incontri in programma, abbiamo deciso di concentrarci sulla presentazione del piano energetico della Regione Emilia-Romagna per i prossimi anni. Il piano, presentato da Morena Diazzi, Direttore Generale dell'Assessorato alle Attività Produttive, Commercio e Turismo della Regione, riguarderà il triennio 2011-2013, ma in realtà l'obiettivo che si prefigge guarda più lontano, arrivare al 17-20% di energie rinnovabili utilizzate in Regione entro il 2020. Si punta soprattutto sul fotovoltaico e sulle biomasse e 8 sono le azioni previste, la ricerca e l'innovazione, la green economy, la qualificazione energetica del settore agricolo, la qualificazione edilizia, urbana e territoriale, la promozione della mobilità sostenibile, la regolamentazione del settore, la programmazione locale, l'informazione e la comunicazione e l'assistenza tecnica e il partner ariato. In campo, 100 milioni di euro in tre anni. L'efficacia del piano è però legata a quello che sta succedendo a livello nazionale con il Decreto Romani, che al momento ha bloccato il conto energia, il sistema di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici. Potranno infatti avvalersi delle tariffe incentivanti, che vanno da un minimo di 0,25 centesimi a kilowatt ora a un massimo di 0,40 e che erano state stabilite dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2010, solo coloro che realizzeranno l'impianto entro il 31 maggio 2011. Abbiamo chiesto quindi all'assessore delle attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile della regione Emilia-Romagna, Giancarlo Muzzarelli, in che quadro ci si sta muovendo e cosa si prevede per l'immediato futuro di questo settore. Purtroppo è in vigore il Decreto Romani, decreto che sostanzialmente sta bloccando le proiezioni e gli investimenti in un settore che per noi è strategico, che è quello della green economy e soprattutto in particolare per il fotovoltaico. Noi riteniamo che dobbiamo stare in Europa, dobbiamo cercare di produrre energia da fonti rinnovabili, dobbiamo rispettare gli impegni che abbiamo assunto a livello europeo e per fare questo bisogna ripartire. Noi abbiamo chiesto dal Presidente Arrani all'interno della conferenza Stato-Regioni, agli assessori tutti del nostro Paese, di cambiare, di ripristinare. L'accordo raggiunto è quello di ricostruire un nuovo decreto che possa superare il decreto precedente, cercando di riequilibrare le condizioni e i sostegni. Stiamo aspettando il testo, non è ancora arrivato, lo guarderemo con molta attenzione. Noi riteniamo che sia importante che in quel decreto siano contenuti gli obiettivi, soprattutto per quanto attiene la ripartenza dei sostegni e quindi garantire un percorso fino al 2016 per il sostegno alle fonti rinnovabili, cercare di non fissare limiti alla produzione da fonti rinnovabili perché mi sembrerebbe una cosa contro senso e contro il buon senso. Io penso che il nostro Paese debba aumentare fortemente le produzioni da fonti rinnovabili per cercare di andare nella direzione di aumentare una quota di autosufficienza rispetto alle pressioni e soprattutto alle dipendenze da fonti fossili e dobbiamo andare nella direzione di cercare di trovare le condizioni perché il decreto si faccia presto per superare questo impasse, per dire alle banche abbiamo ripristinato un po' di fiducia visto che l'hanno perse in un colpo solo e guardare ad una condizione di sviluppo sostenibile che è l'obiettivo che noi ci poniamo. Grazie a tutti.